Ninetta! Ma cosa fa? Ma Ninetta! Ninetta, anziché giocare ai mimi, come è andato il concorso? Eh, come se pensava... Andava male, eh? Ha vinto Furio. Ma no, dai. Cioè, Fucolare viste il concorso Miss giornalista dell'anno. Sì, guarda, ci sono stati tutti lì per lì, ma quando lui si è aperto il Chemono... Non c'è stato niente da fare. Non c'è stato niente da fare. Senta, parliamo di calcio. Roma Genoa l'ha visto, questo 3-0. Ma c'è stato un problema con Rosanna, che mi è venuta a prendere sabato, no? La Vaudetti. Andiamo a fare un giro sul raccordo anulare, quella sua 127 Station Wagon Optionals. Ah, che bel modellino. Un bel modellino, no? Allora, a un certo punto siamo sul raccordo, in quei rientri della sosta c'è la macchina che continua a zompettare a destra e a manca con le sospensioni, noi ci accostiamo, sarà come un terremoto, no? Che c'era? C'era dentro Papa Ezio che si stava infrattando. Ma con chi? Con chi stavolta? Con Rita Levi monta il cinema. No, va bene. Ma che vergogna. Mi è venuta la vergogna, ma non per lei, per Rita, che è una donna così a modo. Veniamo alla partita, per favore. A un certo punto va avanti con la macchina e si rompe la coppa dell'olio. Della 127. Della 127 noi subito fa autostop, lei si tira su le gambe a Vaudetti. tutti i mezzucci. Ci sa fare quella... Va bene. Sì, chi vi carica? Ebbè, ci carica il pullman del Genoa. No. Ah, che fortuna. Una cosa pazzesca che quelli, tu sai che quando vanno via, tutta Genoa si è appretta a loro e tu un pullman si raccarica con 400-500 persone. Ma perché? Per risparmiare... Per risparmiare, perché quelli sono tirchi. La Vaudetti si è assettata sulle gambe di Spirelli subito, perché quella... No, coio, coio. Proprio, gli va bene tutto. Non ci credo, comunque va bene. Per me sta scatenata un'asta, un putiferio, un putiferio, un putiferio, un putiferio, un pareguardo, un po' di là. A un certo punto cosa succede? Taccone fa, facciamo il sorteggio. Hanno prendato l'autista. Mentre guidava. Mentre guidava quello, pizzica con la mano il bigliettino. E chi è stato il fortunato? Spagnolo. Allora, mi sento su spagnolo così e se va tutti, insomma, ci infrattiamo un pochettino. Non scendano i particolari, eh? Beh, queste sono cose miei. Ecco meglio. E andiamo al ritiro del Genova a Artufello. Artufello? Adesso anche il Genova e il ritiro a Artufello a Roma. Sì, il Genova va e il ritiro a Artufello. Ma parliamo della partita. Domenica è andata allo stadio, sì o no? Domenica mi sono andata allo stadio con una mezz'oretta di ritardo, per cose mie, no? Come arrivo allo stadio? Faccio i gradoni per salire, no? E sentivo che mi rimbalzava un po' tutto, no? Come... E che era successo? Era successo che me l'ho dimenticata il reggisero, no? E chi? Come hai? E spagnolo ce l'avevo a lui vicino alla porta. Allora quello alla mezz'ora lo prende in fanninetta, ce l'ho detto reggisero, se fa per sbracciare, no? E in quel momento Muzzi fa il cross, quello sbraccia il pallone perché già mi stava indicando il reggisero e entra il carnevale e la mette dentro. Ma non si vedeva nessuno reggisero nei filmati, cosa sta dicendo? Perché è un modello molto trasparente che va comprato a Paezio ad Amsterdam dove lui compra tutte le frutte. Minnetta, io lo ripeto, lei di calcio non capisce assolutamente niente, va bene? Posso dire la mia, posso dire la mia, a parte che mi rimbalzate, a parte che mi rimbalzate siamo pari. Ieri si è avuta la riprova che se fai giocare a Muzzi la squadra cambia da così a così. La squadra deve far giocare a Muzzi in pianta stabile.